Va bene? Signori, questi, questi piacciono ai giovani, questi qui, ai giovani, questo qui, piacciono ai giovani questo, chiaro? Chiaro. Bisogna sconfinare, avere idee più moderne e parliamo di Europa Unita, vabbè Europa. Comunque questi sono artisti che meritano il loro rispetto e devono lavorare con tranquillità e serenità, sono artisti che girano tutto il mondo. Attaccate, va, suonatori ambulanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene? Signori, questi, questi piacciono ai giovani, questi qui, ai giovani, questo qui, piacciono ai giovani questo, chiaro? Chiaro? Chiaro.